Siamo in compagnia di Vitorizzo, ideatore del Festival della Teologia Incontri, che quest'anno giunge alla sua terza edizione. Per ovvi motivi che riguardano il Covid-19, quest'anno non sarà un festival itinerante, ma si svolgerà principalmente nella città di Agropoli. Ma adesso Vitorizzo spiegherà a tutti voi come sarà strutturato il festival e poi il tema importante di quest'anno che verrà trattato. Ovviamente poi racconteremo anche degli ospiti illustri che faranno parte di questa rassegna importante e poi ovviamente gli orari e un appello importante che poi diremo al termine di questa intervista. Prego Vito. Beh, allora diciamo innanzitutto, lo accennavi tu prima, l'emergenza Covid non poteva non condizionare naturalmente anche l'organizzazione del festival, che però siamo riusciti a confermare. Non faremo la formula itinerante nelle diverse piazze del Cilento, ma concentreremo le tre serate, il 3, il 4 e il 5 agosto, nella piazzetta della Madonna di Costantinopoli, nel borgo antico di Agropoli. Perché questa scelta? Perché in quella piazzetta riusciamo a garantire l'ingresso e l'uscita differenziata, possiamo garantire il distanziamento sociale, il distanziamento fisico delle persone, quindi anche con le sedie e poi naturalmente i numeri della presenza fisica saranno un po' più ridotti, ma fortunatamente abbiamo Cilento Channel che manderà la diretta e quindi riusciremo a coprire come sempre tutto quanto il territorio. Il tema di quest'anno è un bellissimo tema, è la donna che sarà affrontato nelle tre serate attraverso degli interventi molto qualificati, perché abbiamo la prima sera una biblista, Maria Rosaria Cirella, la professoressa Maria Rosaria Cirella della Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale che toccherà il tema della donna, la figura della donna nell'Antico Testamento. La seconda serata avremo un'altra teologa, Lorella Parente, la professoressa Lorella Parente, che svilupperà il tema della donna nella figura di Maria. E poi l'ultima sera, il 5, avremo Don Emilio Salvatore, un altro biblista, docente alla sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica di Napoli, che toccherà il tema della donna e Gesù. Naturalmente il programma non si riduce all'intervento dei teologi che ci accompagneranno in questa meditazione, ma ogni sera ci sarà poi nella seconda parte della serata un momento particolare. La prima sera avremo una bellissima videointervista che è stata realizzata dalle giovani dell'Azione Cattolica ad Antonia Salzano, ossia la mamma di Carlo Acutis, il giovane che è stato dichiarato beato. Il 10 ottobre ci sarà la cerimonia ad Assisi. Abbiamo incontrato la mamma di Carlo a Palinuro, quindi garantiamo sempre le diverse tappe. Naturalmente un incontro fatto in forma privata e abbiamo conferito a lei il premio incontri 2020. La seconda sera invece avremo un momento più teatrale perché ci sarà Enrico Giuliano che declamerà la preghiera alla Vergine di Dante Alighieri con un'introduzione di Don Carlo Pisani che farà un commento teologico e la partecipazione anche di Giovanna Bagnara che è direttrice di Punto Famiglia e quindi anche per descrivere attraverso la figura di Maria le sensibilità che ciascuna donna può racchiudere in sé. L'ultima sera completiamo, grazie ad una collaborazione quest'anno con la specializzazione in teologia fondamentale della Facoltà di Napoli, della Facoltà Teologica di Napoli, la sezione San Luigi, concludiamo con una tavola rotonda. La donna nel Mediterraneo. Per intenderci la Facoltà Teologica di Napoli è quella che ha ospitato anche Papa Francesco proprio perché è una traccia di ricerca questa della religiosità del Mediterraneo. Quindi avremo Don Bruno Lancuba che è il direttore dell'Istituto di Scienze Religiose San Matteo di Salerno, avremo Lina Morcos che è una docente presso la Facoltà di Napoli, ma anche del Movimento dei Focolari e naturalmente viene da quella terra, viene dalla Terra Santa. Poi avremo l'assessore regionale alle pari opportunità Chiara Marciani, avremo naturalmente la presidente diocesana di azione cattolica Angela Russo e concluderà questa tavola rotonda la coordinatrice della specializzazione in teologia fondamentale, la professoressa Pina De Simone. Quindi la donna del Mediterraneo è un modo per riflettere anche su come la figura della donna nell'attualità dei nostri giorni è una figura chiave ed è importante da valorizzare. La cosa che mi va di sottolineare è che naturalmente, quindi senza che fosse stata una scelta costruita a tavolino, ma la grande prevalenza dei relatori sono donne e questo è un bel segnale per tanti motivi. Uno perché dimostra come non servono Cote Rosa per valorizzare le donne perché le donne valide emergono naturalmente e poi è la cosa più naturale avendo appunto come tema la donna che siano le donne direttamente a parlarne e a raccontare un po' di se stesse. Ci sarà anche un momento musicale grazie ad Amedeo Giordano che ha scelto delle canzoni che accompagneranno le diverse serate e poi l'altra grande novità di quest'anno in collaborazione con la parrocchia San Pietro e Paolo di Agropoli inaugureremo la mostra sui miracoli eucaristici che aveva curato Carlo Acutis, il beato Carlo Acutis, quindi la faremo proprio nelle adiacenze della piazza, quindi all'interno dei luoghi dell'oratorio, però quindi ci sarà anche questa mostra che sarà visitabile durante le serate estive, quindi un programma molto molto ricco, speriamo anche quest'anno di riuscire a cogliere nel segno. Vito non ci resta che ribadire le date quindi delle giornate dedicate al festival, gli orari e poi l'appello finale insomma che tu tieni a dare ai nostri telespettatori. Sì, allora le date sono il 3, il 4 e il 5 agosto, sarebbero lunedì, martedì e mercoledì. L'orario di inizio del festival è alle 21, quindi sia nella piazzetta della Madonna di Costantinopoli sia in diretta su Cilento Channel e poi l'appello importante è questo, viste le difficoltà che ci sono state quest'anno naturalmente noi confidiamo nella provvidenza di Dio per sostenere il festival perché naturalmente sono venuti meno anche tanti sponsor per le ovvie difficoltà che stanno incontrando, quindi abbiamo deciso di aprire come si suol dire al finanziamento libero da parte delle persone, quindi c'è un IBAN che è quello dell'associazione, si può indicare la causale che è incontri, quindi lo vedete anche indicato sullo schermo, quindi questo IBAN è l'IBAN dedicato al festival, quindi ciascuno di voi che è in condizione di fare anche una piccola donazione può essere il modo proprio per sostenere questa iniziativa e fare in modo che l'iniziativa vada avanti. Naturalmente ringraziamo comunque gli enti che ci stanno sostenendo, quindi con il loro patrocinio, in particolare il Comune di Agropoli che ha dato il suo patrocinio morale e il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che riconosce in questa iniziativa un'iniziativa di valorizzazione del territorio occidentale.